Quattro territori del gusto in tutta la regione, 19 tra cuochi ed artigiani del gusto, 21 produttori di vino e olio extravergine, 40 turni di visita ai laboratori. Sono questi i numeri della terza edizione di Cucine Aperte, l'evento organizzato da Tirso Media sabato 28 settembre per il consorzio La Puglia e Servita. Una festa della gastronomia d'eccellenza che ha permesso a viaggiatori gourmet, appassionati e semplici curiosi, di scoprire i segreti dei cuochi del consorzio, che riunisce professionisti pugliesi dell'ospitalità. Anche per questa edizione ogni struttura ha dedicato a un prodotto nel piatto la propria preparazione di benvenuto. I visitatori hanno potuto quindi spostarsi da una struttura all'altra, assaggiando le diverse tipicità di ogni territorio, dalla Capitanata a Castel del Monte e alle terre di Bari, per giungere fino alla Magna Grecia e al Salento. Tante e diverse sono state le eccellenze enogastronomiche di Puglia, protagoniste dell'evento, che ha permesso di riscoprire la dimensione più autentica dell'etica in cucina, imparando direttamente dai ristoratori e dai produttori l'importanza della qualità, la cura e la professionalità. Un successo sul quale abbiamo lavorato intensamente, anche per questa terza edizione. I numeri ci dicono che abbiamo avuto ragione, c'è tanta presenza di gente appassionata, competente, curiosa, e curiosa di vedere, come dicevamo appunto, come bolla in pentola. Al di là degli stereotipi di cucine famosi o meno, abbiamo anche quest'anno aperto le nostre cucine, abbiamo fatto vedere il lavoro che c'è dietro la preparazione di un piatto, abbiamo personalmente scelto un piatto abbastanza complesso, proprio per far capire tutti i passaggi che si sono dietro la preparazione di una pietanza. Un vero e proprio omaggio al ricco patrimonio di eccellenze no gastronomiche di Puglia, arricchito dalle degustazioni di vino e olio extravergine, a cura dei produttori del Movimento Turismo del Vino Puglia, e di Buonaterra, Movimento Turismo dell'Olio Puglia. Tra le novità la presenza degli artigiani del gusto, come i fondatori di V-Tast, che a Bari hanno raccontato la loro esperienza nella urban agriculture e a coltivazione di micro ortaggi, con un focus dedicato alle erbe aromatiche.